Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione in studio Andrea Conte. Iniziamo dai titoli principali, Itri scivola e si spara al piede, cacciatore eri trasportato al San Camillo di Roma. Scauri, i commercianti protestano, vetrine con ceri mortuari invece di luminarie di Natale. Minturno, i consiglieri di opposizione incontrano i cittadini. Scauri, quarantenne minaccia di far saltare in aria la propria abitazione, arrestato per tentata strage. Difiuti tostici, il punto sulla situazione nel Basso Lazio, audizione congiunta di primo e sesta commissione con gli assessori Refrigeri e Ciminiello. La Civescovo, sua eminenza Monsignor Fabio Bernardo Donorio, presiede la celebrazione equalistica al Santuario della Santissima Annunziata, martedì 17 dicembre 2013 alle ore 11 a Gaeta, per quanto riguarda il precetto natalizio della Guardia di Finanza. A Sorrento invece la Maratona Coste to Coste, 31 chilometri da Sorrento ad Amalfi. Gaeta, servizio coordinato del locale comando Compagnia Carabinieri, riferiti all'autorità giudiziaria due persone. Iniziamo da Itri, si è sparato inavvertitamente al piede destro ed ora è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ritrasportato direttamente da Itri. È quanto accaduto ad un settantenne del posto, Ovidio Romanelli, ex capitano di lungo corso, giovedì mattina in località Migliorano, mentre era impegnato in una battuta di caccia libera di volatili insieme a un amico. L'uomo camminava con il fucile a tracollo, carico e il dito sul grilletto, quando forse causa il terreno scivoloso o una radice, è inciampato. In quel momento è partito il colpo che lo ha ferito al piede. Sul posto è intervenuto il 118, i carabinieri della stazione di Itri e del norme di Gaeta, oltre ai vigili urbani. Soccorso, l'uomo è stato trasferito a Roma, dove seppure non è in pericolo di vita, le condizioni del suo piede sono giudicate preoccupanti. A Scauri, sabato scorso, i commercianti hanno organizzato una manifestazione pacifica per esprimere dissenso nei confronti dell'amministrazione comunale di Minturno, che quest'anno non ha allestito le luminari natalizie, se non altro due o tre serie all'inizio e alla fine della via Appia, in territorio scaurese. Una manifestazione pacifica che ha visto gran parte dei negozianti di Scauri porre intorno alle ore 18 alcuni illumini davanti alle proprie vetrine, in segno di protesta. Una reazione scaturita da malumori di una categoria che vive a ridosso di un'economia lacerata dalla crisi e che si sente trascurata dall'amministrazione comunale. Ci sentiamo abbandonati, hanno dichiarato molti di loro, non c'è una forma di dialogo con il Comune, mancano i servizi. Insomma, uno stato di malessere generale è un segno che gli amministratori ora dovranno cogliere e gestire con fiducia, intavolando un percorso condiviso con i commercianti al fine di trovare una strada comune volta al rilancio dell'economia e del territorio. A Minturno i consiglieri di opposizione hanno organizzato un incontro con i cittadini per parlare di tasse e rifiuti. La verità su 18 mesi di mala amministrazione. I consiglieri di opposizione del Comune di Minturno intendono avere un confronto con i cittadini per tirare le somme sull'amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Graziano e lo faranno in un'assemblea pubblica che si terrà giovedì 19 dicembre al ristorante Il Passeggero sull'Appia a Scauri. E ancora da Scauri tentata strage e lesioni con queste accuse gli agenti del commissariato di polizia di Formia. Agli ordini del vice questore Paolo di Francia domenica 15 dicembre hanno tratto in arresto un quarantenne. Si tratta di DM originario di Napoli ma da tempo a Scauri. L'uomo residente nei pressi della stazione ferroviaria si era infatti baricato in casa con quattro bombole del gas aperte e con un accendino minacciava di far saltare se stesso e la propria abitazione dove risiedono oltre la propria famiglia altri 18 nuclei familiari. L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino dopo averlo trattenuto al telefono del 113 cui l'uomo aveva chiamato minacciando la strage. Una volante è riuscita ad arrivare sul posto e mentre un agente apriva le finestre per far uscire dall'abitazione il forte odore di gas l'altro con le dovute precauzioni gli si è lanciato contro per togliergli di mano l'accendino riuscendovi dopo una breve ma intensa collutazione. Condotto presso l'ospedale Dono Svizzero e poi al commissariato l'uomo tra l'altro incensurato ma con una difficile situazione familiare dovuta anche ad una recente separazione dalla compagna è stato tratto in arresto così come richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica di Cassino Francesco Cerullo. E andiamo ai rifiuti tossici. Il punto sulla situazione nel Basso Lazio l'audizione congiunta di Primo e Sesta Commissione con gli assessori Refrigeri e Ciminiel una situazione complessa in un territorio di grande pregio da proteggere e bonificare questo è il quadro della gestione dei rifiuti nel Basso Lazio che hanno fatto Gaia Pernarella Movimento 5 Stelle, Enrico Forte PD, Giuseppe Simeone PDL e Cristina Avenali per il Lazio introducendo l'audizione congiunta nelle commissioni di prima sicurezza e lotta alla criminalità e di sesta ambiente del Consiglio regionale del Lazio presiedute rispettivamente da Baldassare Favara per il Lazio ed Enrico Pannussi per quanto riguarda il PD. I consiglieri hanno ricordato le due risoluzioni presentate in Consiglio regionale sulla gestione dei rifiuti nel Basso Lazio, in particolare sulla discarica di Borgo Montello e sull'interramento di materiali tossici dopo le dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone che ha raccontato dei rifiuti tossici e radioattivi che sarebbero stati smaltiti nella zona dalla Camorra hanno spiegato i consiglieri, c'è molto allarme in tutta la zona non chiediamo che la regione non si sostituisca alla magistratura ma che vengano messe in atto tutte le attività di tutela della popolazione che sono nei nostri poteri fatti tutti i controlli necessari e informata con puntualità la popolazione e avviate in tempi brevi la bonifica delle zone inquinate. Giuseppe Cangemi di NCD ha evidenziato la necessità di maggiore programmazione nel settore e ha chiesto di fare un consiglio regionale straordinario d'accordo anche Antonello Auligemma del PDL che ha chiesto alla Giunta un programma di interventi preciso e dotato di risorse certe. Si tratta di un percorso complesso che inizia negli anni 70 ha ricordato l'assessore all'ambiente Fabio Refrigeri il vero tema è capire il livello della qualità ambientale in tutto il Basso Lazio in particolare nella vallata dove c'è la discarica di Borgo Montello abbiamo cominciato facendo l'anagrafe dei siti da bonificare per avere un quadro preciso e poi intervenire con una programmazione seria in questa area è stata già fatta la ricerca di eventuali fusti tossici nell'area della discarica e abbiamo chiesto maggiori informazioni alla magistratura che sta indagando abbiamo complessivamente a disposizione circa 10 milioni di euro per le bonifiche di cui 6,4 milioni già stanziati per quest'area. Refrigeri in conclusione ha ribadito che le indagini svolte fino ad ora non hanno rilevato la presenza di rifiuti radioattivi negli invasi della discarica Teresa Petrangolini per il Lazio ha suggerito di usare l'istituto della partecipazione al processo che consente a cittadini e associazioni di essere informati fin dalla fase delle indagini dobbiamo verificare se la regione possa utilizzare questo strumento al di là delle dichiarazioni di Schiavone ha ribadito Pernarella i risultati dei rilievi dell'ARPA dimostrano un elevato livello di inquinamento in particolare delle acque del fiume Astura inquinamento dannoso sia per la popolazione che per i prodotti agricoli la regione deve intervenire subito il presidente Panunzi ha ribadito la necessità di fare chiarezza fornendo dati certi evitando ogni tipo di allarmismo ma tutelando al tempo stesso i cittadini servono un'indagine epidemiologica e anche il monitoraggio continuo subito dopo la sessione di bilancio metteremo in calendario un'audizione con l'ARPA e la ASL se questa è la situazione ha replicato Simeone dobbiamo convocare immediatamente ARPA e ASL d'accordo anche Cangemi se questa fosse la verità l'assessore convochi subito i sindaci per vietare l'irrigazione l'assessore Refrigeri ha ribadito che la falda è monitorata dal 2005 il progetto di bonifica che stiamo mettendo in campo riguarda proprio la mitigazione della contaminazione dell'acqua da parte sua l'assessore alla sicurezza Concettina Ciminiello ha ricordato che le dichiarazioni di schiavone sono oggetto delle indagini della direzione distrettuale antimafia sono state fatte anche indagini ambientali la regione per quanto riguarda Borgo Montello ha proseguito Ciminiello ha promosso l'istituzione di un tavolo per la trasparenza per il resto dobbiamo aspettare la conclusione delle indagini il presidente Favara a conclusione dell'audizione ha parlato di elementi di grande preoccupazione che sono emersi nel corso di questa audizione servono riscontri precisi alle dichiarazioni di schiavone e andiamo a Gaeta il nostro arcivesco su eminenza Monsignor Fabio Bernardo Donorio ha accolto l'invito del cappellano della guardia di finanza di Gaeta Don Vincenzo Pizzimenti di presiedere la celebrazione eucaristica per l'annuale precetto natalizio delle fiamme gialle di stanza Gaeta la funzione religiosa si terrà nel santuario della Santissima annunziata a Gaeta domani martedì 17 dicembre 2013 alle ore 11 il nostro arcivesco è da sempre vicino alle fiamme gialle orgoglio della città di Gaeta che è stata da non dimenticare una repubblica marinara e coglierà l'occasione di domani per salutare e ringraziare cordialmente Don Vincenzo Pizzimenti che dopo la funzione lascerà il suo servizio presbiterale a Gaeta essendo stato nominato all'incarico prestigioso di cappellano presso il comando generale dell'arma dei carabinieri di Roma e andiamo a Sorrento la Sorrento Amalfi la maratona cost to cost 31 chilometri da percorrere da Sorrento ad Amalfi domenica 15 dicembre un'iniziativa sportiva e culturale di grande prestigio in un paesaggio meraviglioso ma vediamo tutti i dettagli nel servizio curato da Giuseppe Capuano e Emanuele Tanasi è una giornata di sport e di natura si uniscono con idealmente le due costiere più belle al mondo la penesia sorrentina con la costiera amalfitana sarà uno spettacolo vedere questi atleti lungo il percorso anche se la giornata non è soleggiata ma sicuramente lo scenario sarà meraviglioso e Vincen è il migliore è una manifestazione sportiva di alto livello che attraversa sicuramente dei territori stupendi che sono patrimonio dell'umanità una maratona che dovrebbe sicuramente assolgere a un livello ancora più alto secondo me è vero sono contentissimo perché è un risultato eccezionale oltre le aspettative veramente grazie a tutti la riuscita della manifestazione è stata la grande è la testimonianza che gli atleti tutti quanti astasiati sono arrivati veramente con delle considerazioni eccezionali io voglio ringraziare come ho già detto stamattina di nuovo a tutti gli atleti che hanno dato lustro a questa manifestazione grazie a tutti i comuni ai comuni di Sorrento particolarmente quello di Amalfi e grazie a tutti voi anche i media i giornali TV che date risalto a questa bellissima memorizzazione un arrivederci al prossimo anno il 14 dicembre del 2014 sì beh questa è una cosa un po' particolare perché sarà un percorso molto difficile ondulato molto bello perché comunque si parte a Sorrento si arriva a Amalfi quindi con un bellissimo panorama però una corsa non semplice quindi lo sport è stato puro qui bene o male viene rispettato e ritorniamo in studio con l'ultima notizia per questa edizione da Gaeta nell'arco della decorsa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobili del comando compagnia nel corso di predisposti servizi coordinati tesi a infrenare il fenomeno delle stragi del sabato sera e dei reati in genere deferivano il stato di libertà all'autorità giudiziaria due persone un 23enne di Sperlonga per guida in stato di ebrezza alcolica al quale venivano inoltre ritirati i documenti di guida e ancora un 29enne di nazionalità romena residente a Gaeta censurato il predetto controllato a bordo della propria autovettura si rifiutava di esibire i documenti alla richiesta dei militari operanti alla successiva perquisizione personale e veicolare veniva rinvenuto occultato all'interno della portiera lato guida numero 1 sforlaggente di metallo sottoposto poi a sequestro è tutto per questa edizione del notiziario di oggi come sempre vi ringrazio per averci seguito l'appuntamento è a più tardi con la prossima edizione del Golfo News arrivederci l'appuntamento è a più tardi l'appuntamento è a più tardi Grazie a tutti.